ciao benvenuto in questo video vediamo una piccola cosa che è un piccolo controllo che puoi fare allora come vedi qua abbiamo le pulegge dove gira la cinghia motore e se vedi questa puleggia qua che è quella dell'alternatore cioè che carica la batteria c'è un po di polvere nera ecco questo è segno che le tre pulegge non sono allineate quindi quando ti salirà un tecnico a bordo del motore devi chiedere di allinearti le pulegge perché in questo modo qua la cinghia insomma striscia e quindi è per questo che trovi questa specie di fuligine questa polverina nera quindi questo un piccolo consiglio non diciamo non è fattibile da noi diportisti però puoi chiederlo al tuo motorista di fiducia grazie a tutti grazie a tutti